Paolo Ruzzola, doppia veste amministratore locale, già sindaco, assessore, ma anche consigliere metropolitano, quindi vive le due dimensioni. Un comune, soprattutto un comune piccolo, di montagna, di zona rurale, vede la città metropolitana come un qualcosa di lontano o inizia a fidarsi di chi la amministra? No, assolutamente non lo vede come un ente distante, ma al contrario lo vede come un ente indispensabile con cui interloquire per avere rapporto con le istituzioni superiori, quali la regione o i vari ministeri. I piccoli comuni, come avete detto voi, di periferia, montani, rurali, hanno l'estrema necessità di avere questo ente intermedio che li possa rappresentare. I grandi comuni hanno una forza autonoma per far sentire la propria voce e le proprie istanze nei confronti degli organismi superiori, ma i piccoli hanno sicuramente bisogno, hanno la necessità di avere un'interlocuzione con quella che era la provincia e oggi la città metropolitana. Anzi, ne chiedono anche un rafforzamento, abbiamo bisogno di misure specifiche anche nell'ambito, ad esempio, degli appalti. La centrale unica di committenza fosse in capo alla città metropolitana sarebbe sicuramente un utile strumento per i comuni per poter dare le risposte rispetto alla sempre maggior carenza di personale che si hanno, soprattutto negli enti piccoli. Siamo nella sede del Lanci, nella casa dei comuni piemontesi. Lanci è il sindacato dei comuni, può esserlo anche delle città metropolitane, aiutarle a crescere e ad essere più vicine a tutti i comuni? Sicuramente sì, poi in questo caso parlo anche da componente dell'ufficio di presidenza, quindi da vicepresidente del Lanci regionale. Lanci sicuramente è un utile strumento per riunire tutte le istanze dei comuni e dopo che l'Unione delle province italiane, in quanto riguarda la parte del Piemonte, si è fusa, quindi oggi Lanci-Piemonte rappresenta gli enti territoriali, gli enti locali e tutte le province. Quindi un utile strumento all'interno del quale fare sintesi e trovare le migliori risposte e portare avanti le istanze in modo univoco sia per i territori che per gli enti di secondo livello, quali le città metropolitane o le province.